Adesso abbiamo fatto 52 punti, quindi si è chiuso il primo campionato, quest'anno stiamo giocando due campionati, si è chiuso il primo campionato e si apre, come dicevamo tempo fa, arriviamo a quel punto là e poi dopo cercheremo di divertirci, ecco più che divertirci dico a questo punto si apre un altro mini campionato. Io credo che quando la squadra sicuramente è recettiva agli stimoli esterni che gli arrivano, ma sarebbe troppo facile se fosse solo così, in realtà oltre chiaramente la squadra è recettiva agli stimoli esterni ma la squadra agli stimoli li ha trovati sicuramente anche al proprio interno, perché poi il campo ci vanno loro, se no sarebbe troppo facile, sarebbe un interruttore che scatta nella testa dei giocatori, no? E così non è, quindi sicuramente tutto messo insieme ha fatto sì che siamo oggi qui a commentare una prestazione sicuramente eccellente, partita della vita. Però adesso secondo me prevarrà chi sbaglia di meno e chi fa meno confusione, perché quando si arriva a questo punto del campionato con le energie stanno per finire, con gli equilibri psicofisici che sono tirati, perché quando ha fatto 38 partite chi sarà più bravo nella gestione di queste quattro gare secondo me otterrà questo famoso premio di staccare questo biglietto della lotteria.